buonasera buonasera e benvenuti a questo nuovo video del contenitore di notizie inutili dal argomento alquanto bizzarro magari più bizzarro degli altri elvis nixon e il distintivo del bureau se non fosse realmente accaduto penseremo che si tratti di una leggenda metropolitana elvis presley richard nixon che conversano amabilmente per una mezz'ora all'incirca nella stanza ovale della residenza del presidente degli stati uniti i stoi one the girls outside it reminds me of my great land oh it does does it up how many square feet is this grace land of yours not sure ten thousand well that is a fine size for a home is that was my means more than fine course the white house here is i think about 55.000 in una fresca mattinata del 21 dicembre 1970 ebbe luogo lo storico incontro reso immortale dalla famosa foto in bianco e nero nella quale i due si stringono la mano la richard nixon presidenzial library and workplace in california ha deciso di rendere pubblico questo materiale in concomitanza con il 72esimo compleanno del re di rock n roll l'evento può apparire bizzarro ancor di più è il motivo che lo originò la foto di vicenda ebbe inizio nel dicembre 1970 a causa uno litigio di elvis con sua moglie e piscina a graceland pare che presley stesse sperperando il suo patrimonio in seguito alla lite elvis lasciò la sua casa a memphis e preso un volo per los angeles con un chiodo fisso doveva avere a tutti i costi un distintivo del bureau of narcotics and dangerous drugs dipartimento antidroga che oggi è cambiato nome in drug enforcement administration o meglio noto come idea per realizzare questo strampolato piano elvis contattò jerry shilling uno dei componenti di quella che chiamava la memphis mafia un soprannome dato da presley a un gruppo di amici collaboratori e dipendenti e cugini le funzioni principali erano di accompagnare proteggere e servire il re del rock n roll dall'inizio della sua carriera nel 1954 fino alla sua morte nel 1977 lui e jerry shilling partirono alla volta alla capitale degli stati uniti washington convinti di ottenere un distintivo del bureau ma le assurdità non terminano qui a bordo dell'aereo elvis incontrò il senatore della california george murphy sì sì è lui prima faceva l'attore presley gli raccontò come per lui sarebbe stato importante avere un distintivo del dipartimento antidroga per dare un segnale alla nazione a favore della lotta contro la droga per quanto possa sembrare assurdo elvis possedeva già svariati distintivi validi di vari dipartimenti di polizia li collezionava appunto e ne veniva in possesso grazie alla sua collaborazione con varie forze dell'ordine durante i tour in giro per l'america i distintivi li venivano regalati o veniva nominato agente ad honorem il senatore murphy consigliò a presley di scrivere una lettera al presidente degli stati uniti richard nixon esprimendo il desiderio di incontrarlo quanto prima elvis non perse tempo e la scrisse di suo pugno sull'aereo chiedendo in che modo avrebbe potuto contribuire alla battaglia contro la diffusione delle droghe nella quale vantava credenziali che secondo suo modo di vedere avrebbero potuto fargli rivestire un ruolo di agente federale con quella lettera in mano a bordo della lunga limousine con indosso una giacca di velluto nero due medaglioni al collo un orologio d'oro e gli immancabili oltieri scuri come quelli che indosso io presley si presentò alla casa bianca alle 6 e 30 del mattino del 21 dicembre 1970 elvis consegnò la lettera all'ingresso della residenza del presidente nixon i servizi segreti lo faceva parlare con e gil croc figura importante molto vicino al presidente degli stati uniti croc grande fan di elvis fu molto felice di incontrarlo presley espose i suoi buoni propositi e due ore e mezza dopo la rock star entrò nella sala ovale e si gelò racconta oggi croc all'associated press probabilmente perché si era reso conto di dove era finito lo accompagnai continua croc nella descrizione dell'episodio sino alla scrivania dove nixon lo stava aspettando il re e il presidente parlano per circa mezz'ora durante la quale presley mostrò al presidente americano alcune foto di sua figlia i tesserini di varie forze di polizia del paese e chiese se poteva averne uno del dipartimento antidroga nixon glielo concesse non prima però di aver girato la richiesta anche al capo della narcotici presley chiese ufficialmente che quell'incontro rimanesse segreto ci riuscì per un anno poi il washington post tirò fuori la storia il 27 gennaio del 1972 da allora la nixon library ha fatto di quell'incontro uno spunto di business t-shirt tazze da tè bloc note e storologi e la foto della stretta di mano che tutt'oggi resta la più venduta lo shopping del museo il distintivo invece è esposto insieme agli altri della collezione di elvis presley nella casa di gaseland nixon poi inviò una lettera a elvis nel 31 dicembre successivo augurandogli ogni bene ai supernerdacchioni come sottoscritto dico che questo evento ha avuto ben due trasposizioni filmiche la prima del 1997 è un lungometraggio per la televisione un mockumentary dal titolo elvis meets nixon diretto da alan arkush con rick peters nei panni di elvis e bob gunton in quelli di richard nixon e il ben noto film intitolato elvis nixon diretto da lisa johnson con michael shannon che vi spesi uscito nel settembre del 2016 bene anche questa volta siamo giunti al termine di questo video se vi è piaciuto lasciate un feedback nei commenti o un like o iscrivetevi al mio canale youtube a presto